Ciao a tutti, oggi vedremo come riutilizzare un vecchio masterizzatore cd da interno di un pc fisso come masterizzatore o unità ottica esterna. Quando è utile questa tecnica? Quando abbiamo portatili o ultrabook sprovvisti di unità ottica. Tutto quello che ci serve è un masterizzatore o lettore cd da pc fisso interno e un cavo di trasferimento dati come questo qua. Il nostro è universale ma in commercio se ne trovano di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Come procediamo? Colleghiamo l'alimentazione e il cavo dati all'unità ottica. Il cavo dati 10 USB lo colleghiamo al computer. Vediamo che è perfettamente funzionante. Inseriamo un cd e vediamo che il computer tranquillamente riconoscerà il cd e ci permetterà di navigarlo. Ecco qua. Ciao a tutti, grazie per aver guardato il video.